2, 1, 5 C'era una volta in un piccolo villaggio circondato dal verde Mi è piaciuto molto fare il video Mi è piaciuto fare di più la parte dell'audio Allora io ho creato un albero Il mio personaggio era una ruota Ho creato una bottiglia Mi ha colpito molto che da una cosa inanimata Con la stop motion riesce a farla animare Riesce a fare delle cose Attenzione a non divertirvi troppo I docenti sono simpatici E fanno ridere E sono bravi Penso di aver imparato tante cose nuove Mi è piaciuto tutto Bella, istruttiva utile, bella Grazie a tutti